...della prestazione perché la classifica in questo momento l'ho guardata sempre poco e ho cercato di far crescere questa squadra nuova e purtroppo abbiamo avuto degli incidenti di percorso, ho detto chiaramente che per come ci siamo assemblati quest'estate e tutta una serie di cose si è visto che non eravamo brillanti in condizione fisica, abbiamo fatto l'Europa League preliminari, quindi avevamo tanti problemi più fisici che di altre specie. Io oggi ho visto una grande partita, giocata molto bene dalla mia squadra, per dire con chiarezza che siccome il calcio non è una scienza esatta ognuno può vedere il calcio come vuole e c'è rispetto per tutti, mi sono fatto dare dei numeri, mi farò dare dei numeri tutte le volte quando si parlerà della prestazione e così almeno i numeri sono abbastanza oggettivi, non possono essere tanto discursi. Abbiamo fatto una supremazia territoriale importante contro una squadra che era imbattuta e ha messo in difficoltà tutti, 60% a 40% a una cosa del genere, sia la supremazia territoriale che il possesso palla. Palle e gol 9 a 3, 9 per noi, 3 per gli altri, quindi questo credo che sia quello che ora ci interessa. Anche a Cesena abbiamo creato un'infinità di palle e gol e per ora abbiamo avuto il torto di purtroppo non metterla dentro, però sono contento di come sta giocando la squadra.